Buongiorno a tutti, mi presento, sono Andrea Menin, coordinatore per la Commissione Trasporti, Viabilità e Logistica. Insieme ai colleghi De Rossi, Bortolato, Simeonato e come consigliere per l'Ordine Scatolini seguiamo i temi legati a questa commissione. Temi che sono molto vari per quanto riguarda la parte del trasporto in quanto, come sapete, ognuno di noi occupa gran parte del tempo della sua giornata nel trasporto, nella mobilità. I temi fondamentali sono la viabilità, la gomma, la gomma compresa anche il trasporto sostenibile su ciclabilità e poi riguarda la parte ferro, ferrovie e stazioni per passare poi all'acqua, quindi navigazione interna, trasporto pubblico locale che è sviluppato sia su ferro, tram e ferrovia, sia su gomma, autobus, sia su parte acqua e per poi passare alla parte su aria, quindi aeroporto, l'aeroporto di Venezia è uno dei principali nodi, aeroporti, gate internazionali degli italiani e al tema della logistica che vede la città metropolitana come importante croceria di ben due corridoi TNT europei e due nodi principali e due nodi comprensi, Venezia, aeroporto e porto di Venezia più interporto di Portogruaro. Quindi su questi temi abbiamo iniziato a ragionare con ben sette incontri e svilupperemo nel corso dell'anno 10-12 temi da approfondire con seminari e a seguire poi con altre proiezioni per il 2025. Grazie a tutti.